Musica Torna al successo i Perticara, lo fa nel nome di Enzo Belloni, dirigente storico, nonché giocatore e uno che ha fatto la storia dei Perticara a calcio scomparso in settimana. Tanti rammarico tra la dirigenza Perticarese e gli stessi giocatori staff tecnico che oltre un uomo di calcio perdono un grande, grandissimo amico. E l'inizio non poteva che essere nel nome di Enzo Belloni, a lui lo striscione in minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio. A Valsecchi si affrontano due squadre in cerca di vittoria per allontanarsi dal lato di fondo della classifica. I Perticara non vince da turno casalingo con la stella e tra qualche episodio arbitrale a sfavore e tanto nervosismo è arrivato un input anche dalla stessa dirigenza, testa bassa e via ritorno al calcio giocato. Prima del calcio d'inizio foto d'archiva da parte dei colleghi di Romagna Sport Paolo Gregori che prosegue scatti fotografici per l'uscita dell'albumacco edizione 2020 e per arricchire ovviamente il sito di Romagna Sport. I Perticara aggredisce nel più di 5 minuti l'avversario collezionando 3 palle gol. La prima vede la punizione di Manenti bloccata da Bornacci. L'estremo ospite viene chiamato in causa prima per bloccare il tiro di Stoppa, infine quello di Rossi, entrambi arrivati da posizione defilata. L'alta Valconca risponde con questo tiro non troppo insidioso a cura di Dolci. Ma è sempre Perticara a creare pericoli maggiori. La discesa di Rossi viene fermata ma malamente allontanata, Stoppa non ne approfitta. Bartoletti invece tenta l'acuto dalla distanza senza trovare fortuna. Dall'altra parte l'alta Valconca cerca di rendersi pericoloso ma la girata di Pazzalini è ben lontana dalla porta di Fece da Balducci. Rossi al 35esimo e segue la solita discesa, cade in area di rigore. Dalla tribuna vorrebbero l'intervento del direttore di gara che non avviene. Menti Patatrac lo rischia di fare i Perticara. Crociane e Balducci non chiamano i palloni, si scontrano permettendo a Pazzalini di inserirsi e di servire Terenzi che a porta spalancata mette incredibilmente a lato. Poco dopo bel gesto di fair play del centrale difensivo ospite Bencivenga che ravvede l'indicazione di Casale di Rimini che inizialmente aveva concesso un corner proprio per la formazione da lui difesa. Applausi per lui. Dall'altra parte Perticara fa le prove dei gol. Bartoletti viene chiamato attivo dalla distanza. Bornacci segue una strepitosa parata ed è reattivo a ne chiudere lo specchio della porta anche a Simoncini. Lo stesso terzino, 44esimo servito in profondità da Rossi, guadagna questo penalty per un tocco di mano in area di rigore a cura di Tenti. Dal dischetto si presenta Rossi che fredda Bornacci portando i Perticara in vantaggio. Tanto di dedica per Enzo Belloni e via all'esultanza che manda in seguito le due squadre dritte dritte nello spogliatoio a bere un tè caldo. Nella ripresa la partita rimane viva, complice anche il risveglio dell'alta Valconca. Assistiamo tuttavia a una gara piacevole con ribaltamenti da una parte e dall'altra. In ordine cronologico al terzo Manenti spaventa dal calcio piazzato la rete o guardia ospite, anche se a diri vero è Balduccia a rimanere fulminato da questo bolido indirizzato all'incorso dei pali ad opera di Dolci. L'alta Valconca ci crede e questo traversone di Musta crea scompiglio. Arriva un batte e ribatti con il palone infine addomesticato da Ricciatti, apertura per Musta che mette sull'esterno della rete. Ma al diciassettesimo l'alta Valconca perviene al pareggio. Ricciatti mette al centro, Sani risponde presente dialogando con Musta che, perfetto nell'inserimento Fredda Balducci trovando i gol del pareggio. E via l'esultanza ospite. A questo punto chi si aspettava un Perticara stanco deve ricredersi. Minuto 21, pennellato al centro di area di rigore, colpo di testa di Averardi che sbatte sul legno alla destra di Bornacci per poi infilarsi in fondo al sacco. 2-1 e Perticara che ritorna in vantaggio. Via nuovo abbraccio con i compagni in campo e parte della panchina. Da qui in poi assistiamo a una serie di tentativi. Bartoletti apre le danze scaricando in porta. Palone ribattuto sui piedi rimanenti che manda al lato. Versante opposto, tiro di Pazzaglini, bloccato da Balducci. E' la volta, questa volta, di Averardi. Il numero 7 è il tempo di girarsi ma nell'allungo Bornacci straordinario. Momento Valconca. Pazzaglini si lascia prontizzare la conclusione da Balducci. Tiro di Capitan Musta che termina sul fondo. Mentre il neo è entrato a Sartini, viene chiuso in uscita da Bornacci. Ma non è finita qui. Balducci è chiamato alla respinta di piedi al minuto 83. Mentre 60 secondi più tardi, questa discesa di Perticara non trova deviazioni vincenti. Ma poco importa. I Perticara torna alla vittoria davanti al pubblico amico e in campionato. Sale dall'ultimo a quarto ultimo posto in gradatoria. E torna a sorridere nel ricordo del loro amico. Vittoria dedicata, ovviamente, a lui. E torna a sorridere nel ricordo di Perticara non trova di Perticara non trova di Perticara non trova di Perticara.